Vittorio Moroni, quest'anno Mond ha siglato un accordo con le giornate degli autori e qui a Monte Sant'Angelo abbiamo avuto una selezione di quattro film intitolata giornate degli autori extra. Quanto è importante arrivare nei festival più piccoli, nei territori di periferia con i film? Allora per me intanto l'incontro con gli spettatori è un momento fondamentale perché imparo a capire che film ho fatto, cioè un dialogo normalmente che avviene con gli spettatori in cui non solo loro fanno domande a me ma io faccio domande a loro e dalle risposte ho sempre delle sorprese. Il festival ovviamente è un luogo che garantisce un rapporto primario con gli spettatori ed è un luogo come dire che può diventare un oasi rispetto alle crudeltà che spesso il mercato ha, no? I film cosiddetti difficili, i film sperimentali, i film che cercano di raccontare o in modo diverso le cose o qualcosa di diverso spesso sono respinti dal mercato, sono boicottati e allora il festival può diventare un luogo di protezione culturale, no? Di protezione della biodiversità culturale. Quindi in particolare la sezione delle giornate degli autori dove siamo stati lusingati e felicissimi di essere presenti è la quintessenza di questo, no? Cioè è esattamente il luogo dove si protegge il cinema, dove si desidera che il cinema in qualche modo sia diverso. Apulia Film Commission secondo me ha fatto, io la ringrazierò tutta la vita perché è stato difficilissimo finanziare questo mio film e Apulia Film Commission è arrivata, è arrivata ed è stata decisiva nel farlo. Quindi io penso che questo film non avrebbe semplicemente potuto esistere senza Apulia Film Commission e la saldatura, come dire, l'alleanza tra questi due alleati del film per me è qualcosa di molto bello che benedico e saluto molto positivamente. Grazie a tutti.